Giornata di controlli per la città di Siena che ieri sera ha vissuto la grande paura del terremoto. Una scossa di magnitudo 3.5 ma con un epicentro a soli 9 chilometri di profondità ha fatto tremare case e palazzi, facendo riversare tutti per strada. In molti hanno dormito in macchina, altri sono rientrati verso le 2 di notte per poi riscappare fuori stamattina quando lo sciame sismico ha ripreso, meno intenso ma molto frequente. Un'ottantina gli interventi dei vigili del fuoco, molti per far rientrare in casa persone senza chiavi che erano scappate in fretta e furia. I danni riscontrati negli edifici pubblici e privati sono stati pochi e di lieve entità. Nella giornata di oggi è stato però necessario evacuare tre nuclei familiari che abitavano in centro, in tutto 14 persone, per un problema alla rampa delle scale per la quale i vigili del fuoco hanno richiesto un intervento tecnico in via precauzionale. Fin dalla scorsa notte è iniziato il monitoraggio della protezione civile e il punto della situazione fatto da sindaco, prefetto e comandante dei vigili del fuoco non ha evidenziato criticità nonostante le molte notizie rimbalzate sui social, ad esempio su alcune crepe rilevate sui monumenti storici, che però erano pregresse. Sono comunque state chiuse per precauzione scuole e università e lo rimarranno anche domani. Anche il Tribunale ha deciso per l'evacuazione stamattina a causa del continuo sciame sismico. Chiuso, ma solo per oggi, il Comune, con la Torre del Mangia sorvegliata speciale, verrà esaminata a fondo appena la terra smetterà di tremare. Resteranno chiusi, almeno fino a domenica, musei, teatri e impianti sportivi. E invece è rimasto aperto l'ospedale delle scotte, funzionando regolarmente. Moltissime le persone che anche stamattina si sono riversate in piazza del campo. Eppure, ha spiegato Paolo Ceccotti, responsabile della protezione civile del Comune di Siena, nell'invitare la popolazione a recarsi altrove, la conchiglia del campo non è un luogo particolarmente sicuro in questi casi.